Per quest'anno i lidi pugliesi resteranno aperti sino al 30 settembre, ma per il 2012 l'assessore regionale Aldemanio Michele Pelillo si è già messo al lavoro per accelerare i tempi e prevedere un incontro fra un mese per allungare i tempi di balneabilità delle strutture che si estendono sugli oltre 800 km di costa della Puglia. E' l'impegno assunto al termine di una lunga riunione con i rappresentanti dell'Asso Balneari dei Sindacati e della Capitaneria di Porto. La possibilità di allungare già da quest'anno per altre due settimane la balneabilità è stata esaminata, ma quasi esclusa per due motivi. Innanzitutto perché la comunicazione andava inoltrata entro lo scorso 31 dicembre al Ministero competente e in secondo luogo perché la Regione Puglia per garantire la balneabilità dell'intero tratto costiero deve garantire la salubrità delle acque per farlo, effettua attraverso l'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, 704 prelievi al mese. Secondo l'assessore Pelillo sarebbe uno spreco ingiustificato quello di effettuare altri 704 prelievi per dover aprire solo 4-5 strutture balneari del Salento per altre due settimane oltre il termine previsto del 30 settembre. È per questo che ha chiesto la collaborazione a trovare nuove soluzioni in vista del prossimo anno e di lasciar tutto invariato per quest'anno. Si sono detti tutti d'accordo a lavorare in modo tale da far sì che il piano regionale delle coste sia modificato e armonizzato con un pizzico di buonsenso con la legge regionale 17 del 2000 sul demanio per non creare ulteriori danni al nostro turismo.